Allora ragazzi, non so se questo è un video a parte oppure farà parte di un vlog oppure metterò tutti i video insieme perché non so fare i vlog Andiamo ad assaggiare il Ben & Jerry, chi mi ha scritto? Una figa? No, assolutamente Il Ben & Jerry di Geteer, Netflix & Chill, io non ho Netflix Se devo vedere qualcosa lo guardo in streaming e non ho neanche Chill perché sono una persona che soffre di ansia E non scopo mai, quindi nessun Netflix & Chill però la pubblicità la fa Daniel Sid Oh porco Dio, Daniel di I Paltellas, che è poi uno dei miei video più visti quindi dovrei saperlo Però ormai, apriamo sto cazzo di gelato di merda Allora, il gelato ha burro di arachidi con pretzel e pezzettini di brownie che sono biscotti al cioccolato Allora, il gelato si si presenta così Allora, il gelato si si presenta così Allora, il gelato si presenta così